Oggi Ale mi ha affidato un compito troppo importantissimo Devo fare la pizza in teglia Cioè questo l'ha fatto tutto lei ovviamente Io non gliela devo rovinare stendendola sulla teglia Sì, non è complicatissimo Ma non è tutto da una teglia Vedete, per esempio io questa qua, come la risolvo? Non lo so come la risolvo La farina! Questa Esatto, perfetto Così Devo prendere metà di questo impasto Ok Gli togliate E adesso Uh, com'è morbida Allora, siccome Mmm Ve lo mettere un po' d'olio sopra E so Mmm Guardate qua Precisa Ci vediamo dopo Che ve la faccio vedere Bella e precisa Mmm Guardate qua che differenza Una di queste Per tutta quanta la pizza Basta Ci rimettiamo un po' di sale Sempre prima il sale La fate piccola 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 E la scolate bene 240 gradi arrivata La andiamo a cuocere per 15 minuti Però controllate Prima 15 minuti E poi la mozzarella Vi faccio vedere Allora, sono passati 15 minuti E quindi dovrebbe essere cotta Difatti si vede che è cotta Si vede proprio Adesso la tiro fuori Eccola qua Guardate che bella Comunque raga Ve ne rendete conto Cioè l'ho capito Quando si scioglie la mozzarella E è ben cotta Eccola qua ragazzi È assolutamente perfetta La pizza va stabilizzata Alexa stop Quindi non la dovete mangiare immediatamente Va assolutamente stabilizzata Questa qui la devo lasciare bianca Ci aggiungo semplicemente Un pochino di olio Oh, eccola qua Adesso la condisco Comunque è tornata anche la titolare Ma ovviamente Quando inizio a fare una cosa io Lei non mette bocca Non mette mani Non fa niente Eh certo Se no ti senti in difficoltà Ciao Anna Ciao